un amico mi aveva detto se per caso durante il viaggio in algeria passerai nelle vicinanze di bordie babà va a trovare il mio vecchio compagno d'armi obal che fa il colono laggiù avevo dimenticato sia il nome di obal sia quello di babà e non pensavo affatto al colono quando le circostanze mi fecero capitare proprio in casa sua da un mese percorrevo a piedi la magnifica regione che d'algeri si estende sino a serchelle orleanville di aree paese al tempo stesso boscoso e nudo vasto intimo ci si imbatte tra due montagne in folte foreste di pini chiuse in valli anguste dove d'inverno rumoreggiano tumultuosi torrenti enormi alberi caduti attraverso i burroni servono da ponte agli arabi insieme alle liane che si aggrovigliano ai tronchi morti ornandoli di una vita novella in certe pieghe ignorate della montagna vi sono spaccature di una bellezza terrificante e ruscelletti con rive ricche di oleandri di una grazia indescrivibile ma di quel viaggio i più cari ricordi rimastimi nel cuore sono costituiti dalle camminate pomeridiane le sentieri a scarsa vegetazione che si snodano su quell'alternativa di poggi da dove si domina un immenso paesaggio ondulato e rossastro che dal mare azzurrognolo corre sino alla catena dell'uarsenì coronata dalla foresta di cedri del tianè el haad quel giorno mi ero smarrito avevo scalato una cima ad onde scorgevo oltre una serie di colline la lunga piana della mitidia e dietro questa sulla cresta di un'alta catena in uno sfondo quasi invisibile lo strano monumento chiamato tomba del cristiano sepoltura quanto si dice di una famiglia di re mauritani scendevo in direzione sud e vedevo dinanzi a me sino alle cimerte del limpido cielo sulla soglia del deserto una contrada cibbosa irregolare e fulva fulva come se tutti quei colli fossero coperti di giubbe le leonine cucite insieme talvolta fra di esse una gobba più alta emergeva appuntita gialla simile al dorso cespuglioso di un cammello andava ad un passo veloce lieve come ci si sente quando si scende sentieri tortuosi delle pendici di una montagna nulla più peso in queste corse attente nell'aria viva dell'altezza nel corpo nel cuore nei pensieri né le stesse preoccupazioni in quel giorno in me non c'era nulla di quel che soffoca e tormenta la vita non c'era che la gioia della discesa scorgevo in lontananza campamenti arabi tende brune coniche aggrappate al terreno come le conchiglie agli scogli o qualche gurbi da cui usciva un fumo grigiastro bianche forme erravano intorno a passi lenti uomini e donne e i campani delle mandrie squillavano vagamente nell'aria della sera sul mio cammino si curvavano gli albastri stranamente carichi dei loro frutti di porpora disseminati lungo il sentiero sembravano alberi martiri dai quali scorresse un sudore sanguigno poiché all'estremità ad ogni ramoscello pendeva un grano rosso come una goccia di sangue tutto intorno il suolo era coperto da quella pioggia suppliziale e il piede schiacciando i corbezzoli lasciava tracce delittuose sul terreno talora con un balzo camminando coglievo i più maturi e li mangiavo ora tutti gli anfratti si riempivano di un vapore biondo che si elevava lentamente come il vapore da chianchi d'un bue e dalle catene montuose che sbarravano l'orizzonte alla frontiera del Sahara fiammeggiava un cielo da sacra scrittura lunghe strisce d'oro si alternavano a strisce di sangue sempre sangue, oro e sangue tutta l'umana storia e tra esse sapriva qua e là uno spiraglio di un azzurro verdastro infinitamente remoto remoto come il sogno oh, com'ero lontano com'ero lontano da tutte le cose e da tutte le persone a cui ci interessiamo nella cerchia cittadina lontano da me stesso diventato una sorta d'essere errante incosciente e spensierato un occhio che passa, che vede, che si piace vedendo lontano anche dalla mia strada alla quale non pensavo più tanto che mentre annotava mi accorsi d'essermi sperduto l'ombra calava sulla terra come una pioggia di tenebre e non vedevo di fronte a me che la montagna a perdita d'occhio in un vallone scorsi tuttavia delle tende scesi là e cercai di far capire al primo arabo che incontrai la direzione che cercavo e dove no? lo ignoro per un certo tempo non disse nulla che potessi capire disperato stavo per decidermi di passare la notte avvolto in qualche tappeto vicino all'accampamento quando, fra le parole bizzarre che uscivano dalla bocca dell'arabo mi parve di distinguere il nome di Bordì e Babà ripetei sì sì, Bordì e Babà e gli feci vedere due franchi che per lui dovevano rappresentare una fortuna si mise a camminare e io lo seguì oh, seguì a lungo nella notte profonda quel pallido fantasma che correva davanti a me a piedi nudi su sentieri sassosi su cui inciampavo continuamente a un tratto una luce brillò nell'oscurità giungemmo davanti alla porta di una casa tutta bianca una specie di fortino dalle mura dritte e lisce senza finestre all'esterno bussai dentro dei cani si misero ad abbaiare una voce chiese in francese chi è? risposi abita qui il signor Obal sì mi fu aperto mi trovai di fronte al signor Obal in persona un giovanottone biondo in ciabatte pipa tra i denti con un aspetto di Ercole Bonaccione mi presentai lui mi tese entrambe le mani dicendo siete in casa vostra, signore un quarto d'ora dopo pranzavo avidamente in faccia al mio ospite che continuava a fumare conoscevo la sua storia dopo essersi mangiato non poco denaro con le donne aveva investito il resto in terreni algerini e piantato vigneti i vigneti prosperavano lui era felice e aveva i modi calmi dell'uomo soddisfatto non riuscivo a capire come un parigino un gaudente avesse potuto abituarsi a quella vita monotona in quella solitudine e gli feci qualche domanda da quanto tempo siete qui? da nove anni e non vi sentite morire di tristezza? no si si abitua a questo paese e poi si finisce per amarlo è incredibile come ci prende attraverso un complesso di piccoli istinti animali che ignoravamo dapprima ci si attacca ad esso con i nostri organi ai quali offre soddisfazioni segrete su cui non si ragiona l'aria e il clima ti conquistano la carne tuo malgrado e la luce gaia che inonda questo paese ti mantiene lo spirito in uno stato di contentezza è una luce che entra di continuo dentro di te a fiotti attraverso gli occhi e si direbbe che ti lavi davvero ogni angolo oscuro dell'anima ma e le donne? ah mancano un poco soltanto un poco dio mio sì un poco perché fra le stesse tribù si trovano sempre indigene compiacenti che pensano alle notti del rumì si volse verso l'arabo che mi serviva un ragazzo alto e bruno con due occhi rilucenti sotto il turbante e gli disse ora puoi andare Mohamed ti chiamerò quando avrò bisogno di te poi volgendosi verso di me capisce il francese disse e ora voglio raccontarvi una storia nella quale lui ha avuto una piccola parte il ragazzo era andato via e allora cominciò ero qui da circa quattro anni ancora assai poco acclimatato sotto ogni riguardo in questo paese di cui cominciavo a balbettare l'idioma e costretto per non romperla completamente con inclinazioni che peraltro mi erano già state fatali a fare di tanto in tanto un viaggio di qualche giorno fino ad Algeri avevo comprato questa fattoria questo bordì che prima era stato un posto fortificato a qualche centinaio di metri dall'accampamento indigeno dove si trovavano gli uomini che occupavo nelle mie culture in questa tribù che è una frazione dell'Ulad Taadia quando arrivai scelsi per il mio servizio personale il ragazzo che lei ha visto poco fa Muhammad Ben Lamhar che ben presto si dimostrò estremamente devoto non potendo dormire in una casa a cui non era abituato lui piantò una tenda a qualche passo dalla porta di modo che potevo sempre chiamarlo attraverso la finestra della mia camera la mia vita voi potete immaginare qual era ogni giorno sorvegliavo i lavori di dissodamento del terreno e le piantagioni andavo un po' a cazza mi recavo a cena dagli ufficiali dei posti vicini quando non erano essi a cenare da me quanto ai piaceri vi ho già detto quali erano Algeria inoffriva e dei più raffinati di tanto in tanto un arabo compiacente e pietoso mi fermava nel bel mezzo di una passezzata per propormi di portarmi a casa di notte una donna della sua tribù talvolta accettavo ma più spesso rifiutavo per le noie che la cosa poteva procurarmi una sera al principio dell'estate di ritorno da un giro nelle mie terre avendo bisogno di Mohamed entrai nella sua tenda senza prima chiamarlo è una cosa che facevo spesso su uno di quei grandi tappeti rossi di grossa lana di Gebel Amur folti e soffici come materassi dormiva una donna una giovinetta quasi nuda le brazza incrociate sugli occhi il suo corpo bianco una bianchezza splendente sotto lo sprazzo luminoso che entrava dalla tenda sollevata mi apparve come uno dei più perfetti che io avessi mai visto sono belle le donne in questo paese ed una rara armonia di forme e lineamenti un po' confuso lasciai ricadere il lembo della tenda e rincasai le donne mi piacciono il lampo di quella visione mi aveva trafitto e incendiato ravvivando nelle mie vene l'antico pericoloso ardore al quale devo di trovarmi qui faceva caldo era luglio e passai quasi tutta la notte alla finestra con lo sguardo fisso sulla macchia oscura che la tenda di Mohamed formava sul suolo il giorno dopo quando il servo entrò nella mia camera lo guardai bene in viso e lui abbassò il capo come un uomo confuso colpevole indovinava che sapevo gli domandai a bruciapelo così sei ammogliato lo vidi arrossire balbettò no padrono lo costringevo a parlare francese e a darmi lezioni di arabo il che creava talora una lingua intermedia delle più incoerenti ripresi allora perché porti una donna nella tua tenda mormorò è una del sud ah lei è del sud ma questo non spiega perché si trovi nella tua tenda sente rispondere alla mia domanda disse lei è molto bella ah davvero ebbene un'altra volta quando avrai occasione di ricevere una così bella ragazza del sud mi farà il piacere di farla entrare nel mio gurbi e non nel tuo hai capito Mohamed lui rispose con molta serietà sì padrono confesso che il ricordo della giovinetta araba giacente sul tappeto rosso mi occupò tutto il giorno con un'aggressività impressionante e rincasando all'ora di pranzo sentii forte la tentazione di entrare nuovamente nella tenda di Mohamed lui fece come sempre il suo servizio serale muovendosi intorno a me con un viso impassibile più di una volta rischiai di domandargli se la bellissima del sud sarebbe rimasta a lungo sotto il suo tetto di pelo di cammello verso le nove sempre ossessionato da quel desiderio della donna che è tenace come l'istinto della caccia nei cani uscì per prendere una boccata d'aria e ingironzolare un po' nelle vicinanze del cono di tela bruna attraverso la quale scorgevo il puntino luminoso di un lume poi mi allontanai per non farmi sorprendere da Mohamed nei pressi della sua dimora rincasando un'ora dopo scorsi nettamente il profilo di lui sotto la tenda poi tolta di tasca la chiave entrai nel bordì dove dormivano anche il mio attendente due agricoltori francesi e una vecchia cuoca scovata ad Algeri salii la scala e fui sorpreso osservando un filo di luce sotto la mia porta apersi e di fronte a me seduta su una sedia impagliata accanto alla tavola dove ardeva una candela scorse una fanciulla con un volto da idolo che sembrava aspettarmi tranquillamente adorna di tutti i monili d'argento che le donne del sud portano alle gambe alle braccia sul seno e persino sul ventre i suoi occhi ingranditi dal col gettavano su di me un ampio sguardo e quattro piccoli segni azzurri finemente tatuati sulla carne costellavano la sua fronte le guance e il mento le braccia cariche d'anelli riposavano sulle cosce che una sorta di serica veste da lei indossata ricadendo sulle spalle celava allo sguardo vedendomi entrare la donna balzò in piedi e così rimase di fronte a me coperta dei suoi selvaggi monili in atteggiamento di fiera sottomissione che cosa fai qui le chiese in arabo è perché mi è stato ordinato di venire da te chi te lo ha ordinato mohamed bene sediti lei si sedette abbassando gli occhi io restai di fronte a lei ad esaminarla il suo volto era strano regolare fine e nello stesso tempo un po' bestiale ma mistico come quello di un Buddha le labbra grosse e colorate da una specie di tintura rossa che peraltro e se ritrovava anche sul corpo indicavano una lieve mescolanza di sangue negro benché mani e braccia fossero di una bianchezza ineccepibile esitavo circa ciò che dovevo fare turbato tentato confuso per guadagnar tempo e per poter riflettere le feci altre domande sul suo luogo d'origine su come era venuta in questa regione sui suoi rapporti con Mohamed ma lei non rispose che a quelle domande che meno mi interessavano e mi fu impossibile sapere perché era venuta per ordine di chi da quando né ciò che vi era stato fra lei e il mio servo stavo per dirle torna nella tenda di Mohamed lei forse indovinò si alzò bruscamente in piedi e sollevando le braccia in modo che tutti i brazzaletti scivolarono tintinnando verso le sue spalle congiunse le mani dietro il mio collo attirandomi a sé con una volontà supplice irresistibile i suoi occhi animati dal desiderio di sedurre da quel bisogno di vincere l'uomo che rende lo sguardo impuro delle donne fascinoso come quello dei felini mi chiamavano mi incatenavano mi toglievano ogni capacità di resistere gestavano in me un ardore impetuoso fu una lotta breve senza parole violenta delle sole pupille l'eterna lotta fra i due animali umani fra il maschio e la femmina nella quale sempre il maschio ad essere vinto le sue mani congiunte dietro la mia testa mi attiravano con una pressione lenta crescente irresistibile come una forza magnetica verso il sorriso animale delle sue labbra rosse sulle quali di un tratto incollai le mie mentre abbracciavo quel corpo quasi nudo e carico di anelli d'argento che sotto la mia stretta tintinnarono dalla gola fino ai piedi era nervosa flessuosa e sana come una bestia con atteggiamenti mosse e una specie di odore di gazzella che mi fecero trovare nei suoi baci un sapore raro e sconosciuto straniero ai miei sensi come il gusto della frutta dei tropici all'avvicinarsi dell'alba pensai di mandarla via credendo che se ne sarebbe andata come era venuta senza chiedermi ancora quel che avrei fatto di lei e quel che avrebbe fatto di me ma non appena capì la mia intenzione mormorò se mi scacci dove vuoi che me ne vada ora dovrò dormire per terra nella notte lasciami dormire sul tappeto ai piedi del tuo letto che potevo rispondere che potevo fare pensai che Mohammed stava osservando a sua volta la finestra illuminata della mia stanza e domande di ogni genere che non mi ero posto nel turbamento dei primi momenti ora presero forma precisa nella mia mente resta qui dissi parleremo ed in un attimo la mia decisione fu presa dato che quella ragazza mi era stata gettata fra le braccia l'avrei presa con me ne avrei fatto una specie di amante schiava che avrei nascosto nella casa al modo delle donne degli harem il giorno in cui non mi fosse piaciuta più mi sarebbe stato facile sbarazzarmene in qualche modo perché queste creature sul suolo africano ci appartengono anima e corpo le dissi voglio essere buono con te ti tratterò in un modo che non ti farà sentire infelice però voglio sapere chi sei e donde vieni lei capì che doveva parlare e mi raccontò la sua storia o per meglio dire una storia perché deve aver mentito dal principio alla fine deve aver mentito come mentono tutti gli arabi con o senza motivo la menzogna è una delle più sorprendenti particolarità del carattere indigeno questi uomini nei quali l'islamismo si è incarnato sino a connaturarsi sino a modellarne gli istinti sino a modificare la razza intera e a differenziarla moralmente dalle altre come il colore della pelle differenzia il negro dal bianco sono bugiardi nel midollo delle ossa tanto che non è mai possibile avere fiducia in quello che dicono risultato della loro religione? non so bisogna aver vissuto in mezzo ad essi per conoscere come la menzogna faccia parte del loro essere del loro cuore dell'anima loro come sia diventata quasi una seconda natura una necessità vitale lei dunque mi raccontò di essere figlia del caidwell si di sheik ed una donna da lui rapita in una razzia contro i tuareg questa donna doveva essere una schiava negra o almeno provenire da un primo incrocio di sangue arabo e di sangue negro è noto che le donne camitiche sono assai apprezzate negli harem dove servono come afrodisiaco d'altra parte di questa origine nulla appariva in lei forché il color porporino delle labbra e la scura aureola dei seni oblunghi puntuti ed elastici quasi fossero sorretti da molle su ciò uno sguardo attento non poteva ingannarsi ma tutto il resto apparteneva alla bella razza del sud bianca svelta con un volto fine fatto di linee dritte e semplici come la testa di una immagine indiana gli occhi lontanissimi uno dall'altro accentuavano ancora di più il carattere un po' eratico di quella vagabonda del deserto circa la sua vera essenza nulla seppi di preciso lei me la descrisse con particolari incoerenti che sembravano sorgere a caso in una memoria sconvolta e vi si frammischiavano osservazioni decisamente puerili tutta una visione del mondo nomade nata in un cervello di scoiattolo vagante da tenda a tenda da accampamento in accampamento da una tribù all'altra e tutto esposto con l'aria severa propria di questo popolo nobile e arcano con un viso d'idolo che spettegola e una gravità un po' comica quando ebbe finito mi accorsi che nulla mi era rimasto impresso del lungo racconto pieno di avvenimenti insignificanti stipati in quel cervellino e mi domandai se non si fosse semplicemente fatta gioco di me con quel chiacchierio vuoto e serio che non mi diceva nulla di lei o dei fatti della sua vita e pensai a questo popolo vinto in mezzo al quale noi ci accampiamo o che meglio s'accampa in mezzo a noi del quale cominciamo a parlare la lingua che vediamo quotidianamente vivere sotto la tela trasparente delle sue tende al quale imponiamo le nostre leggi i nostri regolamenti e i nostri costumi e del quale ignoriamo tutto ma tutto capite come se non fossimo presenti e intenti unicamente a guardarlo da ormai quasi sessant'anni non sappiamo cosa accade in quella capanna di rami e sotto quel piccolo cono di stoffa piantato per terra con dei pioli a venti metri dalle nostre porte più di quanto sappiamo di ciò che gli arabi detti civilizzati nelle case moresche di Algeri sono e pensano dietro le mura tirate a calce delle loro abitazioni di città dietro i tramezzi di rami dei loro gurbi o dietro la sottile tenda bruna di pelle di cammello scossa dal vento essi vivono vicino a noi sconosciuti misteriosi mendaci sorgnoni sottomessi sorridenti imperturbabili se dicessi che guardando col binocolo il vicino accampamento indovino che hanno superstizioni cerimonie mille usanze da noi ancora ignorate da noi nemmeno sospettate forse mai un popolo conquistato con la forza ha saputo sfuggire così completamente alla dominazione vera all'influenza morale all'investigazione tenace ma vana del vincitore questa barriera invalicabile e segreta che la natura incomprensibile ha messo fra due razze e ora ad un tratto la sentivo come mai l'avevo sentita fra me e quella ragazza araba fra quella donna che poco prima mi si era data si era abbandonata avevo offerto il proprio corpo alle mie carezze e me che l'avevo posseduta le chiesi pensandoci per la prima volta come ti chiami era rimasta qualche attimo in silenzio e a tale domanda la vedi trassalire come se lei avesse dimenticato che io mi trovavo vicino stretto a lei dall'espressione degli occhi che alzò verso di me indovinai che quegli attimi erano bastati e che fosse stata presa dal sonno a un sonno irresistibile subitaneo quasi fulminante come tutto ciò che prende i mobili sensi delle donne rispose svogliatamente soffocando uno sbadiglio all'uma dissi hai voglia di dormire sì rispose allora dormi lei si distese tranquillamente al mio fianco con la fronte appoggiata sulle brazze incrociate e io sentì che quasi subito il suo pensiero labile di selvaggia si era spento nel riposo steso vicino a lei mi mise a pensare cercando di capire perché Mamed me l'aveva data aveva agito come un servo generoso che si sacrifica per il padrone fino al punto di cedergli la donna attirata nella sua tenda per sé oppure aveva obbedito ad un'idea più complessa più pratica meno generosa gettando nel mio letto quella ragazza che mi era piaciuta l'arabo quando si tratta di donne ha ogni specie di rigori putibondi e di compiacenza innominabili e la sua morale se vera e facile nulla si comprende più di quanto ci comprendano tutti gli altri suoi modi di sentire può darsi che entrando per caso nella sua tenda avessi prevenuto le intenzioni benevole di quel domestico previdente che mi aveva destinato quella donna la sua amica la sua complice forse anche la sua amante tutte queste supposizioni mi assalirono e mi stancarono a tal segno che piano piano scivolai a mia volta in un sonno profondo fui destato dal cigolio della porta era Mohammed venuto come tutte le mattine a svegliarmi aprì la finestra e un'onda di luce andò ad illuminare sul letto il corpo di alluma che continuava a dormire poi raccolse i miei calzoni il panciotto e la giacca che giacevano sul tappeto per spazzolarli non gettò un solo sguardo alla donna stesa vicino a me fece come se non sapesse o se non notasse che si trovava là con la sua solita grazia un po' ambigua lo stesso portamento la stessa espressione del volto la luce il movimento il lieve rumore dei piedi nudi dell'arabo la sensazione dell'aria pura sulla pelle e dentro ai polmoni fecero però uscire all'uma dal suo torpore stiracchiò le braccia si voltò aprì gli occhi mi guardò guardò Mohammed con la stessa indifferenza e si sedette poi morborò ho fame oggi che vuoi mangiare domandai cahua caffè e pane con burro si ritto accanto al nostro talamo i miei abiti sul braccio Mohammed era in attesa di ordini porta la colazione per allume per me gli dissi e lui uscì senza che il suo viso rivelasse la minima sorpresa o contrarietà quando fu scomparso domandai alla giovane araba vuoi rimanere a casa mia si volentieri ti darò una stanza per te sola e una donna per servirti sei generoso tu e ti sono grata ma se non ti comporterai bene ti manderò via farò tutto quello che vorrai mi prese la mano e la baciò in segno di obbedienza Mohammed tornava portando un vassoio con la colazione gli dissi alluma resta con me stenderai qualche tappeto nella sua camera in fondo al corridoio e farai venire qui per servirla la moglie di Abdelkader el-Adara si signore fu tutto un'ora dopo la mia bella araba era sistemata in una grande camera chiara e quando andai ad accertarmi che tutto procedesse bene mi domandò in tono supplichevole di regalarle un armadio con specchiera promesi poi la lasciai accosciata su un tappeto di Gebel Amur la sigaretta in bocca a chiacchierare come se si conoscessero da anni e anni con la vecchia araba che avevo mandato a chiamare per un mese intero fui felice con alluma e mi legai stranamente a quella creatura d'altra razza che mi sembrava perfino d'altra specie come fosse nata su un pianeta vicino non l'amavano non si possono amare le ragazze di questo continente primitivo tra esse noi persino tra esse i loro maschi naturali gli arabi non sboccia mai il piccolo fiore azzurro dei paesi del nord sono troppo prossime all'animalità umana hanno un cuore troppo rudimentale una sensibilità troppo poco affinata per svegliare nelle nostre anime quell'esaltazione sentimentale che è la poesia dell'amore niente di intellettuale nessuna ebbrezza del pensiero si frammisca l'ebbrezza sensuale provocata in noi da queste creature affascinanti e vuote tuttavia esse ci incatenano ci prendono come le altre ma in un modo diverso meno tenace meno crudele meno doloroso non saprei ancora spiegare in modo preciso quello che provavo per lei poco fa vi dicevo che questo paese quest'Africa nuda senza arte vuota di tutte le gioie intelligenti opera poco a poco la conquista della nostra carne con un fascino sconosciuto e sicuro con la carezza dell'aria con la costante dolcezza delle aurore e dei crepuscoli con la sua luce deliziosa col benessere discreto in cui immerse i nostri organi ebbene all'Uma mi prese in questo modo per mezzo di mille attrattive nascoste cattivanti e fisiche per mezzo della seduzione penetrante non tanto dei suoi abbracci perché lei era di una indolenza tutta orientale bensì dei suoi dolci abbandoni la lasciavo assolutamente libera di andare e venire come voleva e lei passava almeno un pomeriggio su due nel vicino accampamento fra le donne dei miei contadini indigeni ma spesso restava anche per un'intera giornata a guardarsi nell'armadio di Mogano a specchi che avevo fatto venire ad Emiliana si ammirava si ammirava coscienziosamente in piedi davanti alla grande porta di cristallo dove lei seguiva tutti i suoi movimenti con un'attenzione profonda e grave camminava con la testa gettata all'indietro si rigirava per guardarsi le anche e le reni si allontanava si avvicinava nuovamente finché stanca di muoversi si sedeva su di un cuscino restando di fronte all'immagine di se stessa con gli occhi negli occhi col viso severo con l'anima assorbita in quella contemplazione presto mi accorsi che lei usciva quasi ogni giorno dopo il pranzo non facendosi più vedere fino a sera un po' inquieto chiesi a Mohamed se sapesse che cosa l'Uma poteva fare durante tutte quelle lunghe ore di assenza rispose tranquillamente non tormentarti fra breve Ramadan lei deve andare a fare le sue devozioni anche lui sembrava entusiasta della presenza di all'Uma nella casa nemmeno una volta sorpresi un qualche gesto sospetto nemmeno una volta essi mi dettero l'impressione di nascondersi di fronte a me di intendersela di dissimulare accettai quindi la situazione così com'era senza cercare di comprenderla lasciando che il tempo e il caso e la vita agissero spesso dopo aver ispezionato le mie terre le vigne i dissodamenti facevo lunghe passeggiate voi conoscete le superbe foreste di questa parte dell'Algeria i borri quasi impenetrabili dove gli abeti caduti sbarrano i torrenti le piccole valli fitte di oleandri che viste dall'alto dei monti sembrano tanti tappeti orientali stesi vicino a dei corsi d'acqua voi sapete che ad ogni passo in quei boschi e su quelle pendici si incontra ad un tratto la cupola nivea di un cuba racchiudente le ossa di un umile marabut di un qualche marabut anacoreta appena visitata di tanto in tanto da alcuni fedeli ostinati venuti dal vicino villaggio arabo con la lampada da accendere nella tomba del santo ebbene una sera nel tornare a casa passai vicino ad una di queste cappelle maomettane e avendovi gettato un'occhiata attraverso la porta sempre aperta vedi una donna che pregava davanti alla reliquia era un quadro incantevole quello offerto ai miei occhi dall'araba seduta per terra in quella stanza rovinata dove il vento entrava liberamente ammassando negli angoli mucchi gialli i sottili aghi secchi caduti dai pini avvicinandomi per vedere meglio riconobbi all'uma lei non mi vide non mi udì assorta unicamente nel pensiero del santo parlava a bassa voce gli parlava credendosi sola con lui raccontava al servo di dio tutti i propri affanni a intervalli faceva una pausa per meditare per cercare che cosa ancora le rimanesse da dire per non dimenticar nessuna confidenza e talvolta anche si animava come se egli avesse risposto le avesse consigliato una cosa a cui lei riluttante opponesse un ragionamento ma lontanai senza far rumore come ero venuto e rincasai per pranzare la sera chiamai all'uma e la vidi entrare con un'espressione preoccupata che non l'era abituale siedi qui dissi indicandole il posto sul divano accanto a me lei sedette e mentre mi chinavo per baciarla allontanò la testa con vivacità fui stupito e domandai che c'è è il ramadan disse lei io mi misi a ridere forse il marabut ti ha proibito di lasciarti baciare durante il ramadan sì io sono araba e tu sei un rumi sarebbe peccato grave ah sì dunque tutto il giorno sino al tramonto non hai mangiato no nulla ma hai mangiato dopo il tramonto no nulla ma tramontato il sole hai mangiato sì ebbene dato che ora è completamente buio per il resto non puoi essere più severa che per la bocca lei si irrigidì sembrava offesa impermalita e con un'alterigia che non le conoscevo disse se una ragazza araba si lascia toccare da un rumi durante il ramadan sarà maledetta per sempre e durerà così per tutto il mese sì per tutto il mese del ramadan presi un'aria irritata e le dissi allora puoi andarlo a passare presso la tua famiglia il ramadan oh te ne prego non essere cattivo vedrai che sarò gentile faremo insieme il ramadan vuoi? avrò cura di te ti vizierò ma non essere cattivo non potei fare a meno di sorridere tanto lei era buffa ed esolata e la mandai a dormire nella sua camera un'ora dopo mentre stavo per andare a letto alla porta furono battuti due colpi così lievi che appena li udì gridai avanti e vedi apparire all'uma con un gran vassoio carico di lecornie arabe di crocchette fritte zuccherate di tutta la bizzarra pastizzeria da nomadi rideva mostrando i suoi bei denti e ripete faremo il ramadan insieme sapete come il digiuno che comincia all'aurora per gli arabi e termina il crepuscolo quando l'occhio non dicerne più un filo bianco da un filo nero eseguito ogni sera da festicciole intime durante le quali si mangia sino all'alba e risulta che per gli indigeni poco scrupolosi il ramadan consiste nel far notte del giorno e giorno della notte ma l'uma andava oltre con gli scrupoli lei pose il vassoio tra noi due sul divano e prendendo con le lunghe dita una cialda dolce me la misè in bocca morborando è buona mangia sgretola il dolcino che effettivamente era squisito e le domandai le hai fatte tu? io? sì per me? sì per te per farmi sopportare il ramadan? non essere cattivo te ne porterò altri tutti i giorni che orribile mese passai un mese inzuccherato dolciastro irritante un mese di moine e di tentazioni di collere e di tentativi che sempre incontravano un'invincibile resistenza poi quando vennero i tre giorni del Beitran io li celebrai a modo mio e il ramadan fu dimenticato l'estate passò un'estate assai calda ai primi giorni dell'autunno la luma sembrò preoccupata distratta senza interesse per nulla una sera che l'avevo fatta a chiamare non la trovarono nella sua camera pensai che gironzolasse per la casa e ordinai di cercarla non era ritornata a casa aprì la finestra e gridai mohammed sentì la sua voce rispondermi sotto alla tenda sì signore sai dove alluma no signore non possibile alluma perduta poco dopo mohammed era da me emozionato al punto di essere incapace di nascondere il suo turbamento mi chiese alluma perduta ma sì alluma perduta non possibile cercala gli dissi rimase in piedi sopra pensiero cercando di capire poi entrò nella camera dove in un disordine tutto orientale erano sparse le vesti di alluma guardò ogni cosa come un poliziotto o piuttosto come un cane quindi incapace di un più lungo sforzo mormorò rassegnato partita è partita io temevo che le fosse capitato qualche accidente una caduta una storta in un borro e mobilitai tutti gli uomini dell'accampamento con l'ordine di cercare finché la ragazza non fosse stata ritrovata le ricerche continuarono tutta la notte tutto il giorno dopo tutta la settimana non si trovò traccia che potesse mettere sulla pista io soffrivo alluma mi mancava la casa mi sembrava vuota la mia stessa esistenza deserta poi idee angosciose mi balenavano alla mente temevo fosse stata rapita forse assassinata però quando interrogavo Mohamed comunicandogli le mie apprensioni lui rispondeva invariabilmente no lei è partita poi aggiungeva la parola araba rezale che vuol dire gazzella come a significare che alluma correva veloce ed era lontana trascorsero tre settimane e non speravo ormai più di rivedere la mia amante araba quando un mattino Mohamed entrò in camera mia il volto illuminato di gioia e mi disse padrono alluma tornata balzai dal letto e domandai dov'è non coraggio di venire là sotto albero e il suo braccio teso mi mostrava dalla finestra una macchia biancastra sotto un olivo mi vestì e uscii mentre mi avvicinavo a quel mucchietto di biancheria che sembrava fosse stato gettato contro il tronco contorto riconobbi i grandi occhi scuri le stelle tatuate e il volto lungo e regolare della selvaggia fanciulla che m'aveva conquistato più avanzavo e più mi invadeva una collera una voglia di percuoterla di farla soffrire di vendicarmi gridai da lontano di dove vieni lei non rispose e rimase immobile inerte come se vivesse ormai solo a stento rassegnata alle mie violenze preparata alle percosse ero ormai vicinissimo a lei e guardavo stupito i censi che la coprivano quelle spoglie di sete di lana grise di polvere sordide e a brandelli ripetei la mano alzata come su un cane di dove vieni lei mormorò di laggiù laggiù dove dalla tribù quale tribù la mia perché te ne sei andata vedendo che non la colpivo si rianimò e disse sommessamente era necessario non potevo più vivere in una casa vidi le lacrime sfuntare nei suoi occhi e subito mi intenerì come uno stupido mi chinai verso di lei e nel voltarmi per sederle vicino scorse Moamed che da lontano ci spiava ripresi con dolcezza su ora dimmi perché te ne sei andata allora mi raccontò che già da tempo aveva sentito nel suo cuore di nomade il desiderio irresistibile di tornare sotto le tende di dormire di correre di rotolarsi sulla sabbia di vagare con le grezze di pianura in pianura di non sentire sulla testa fra le stelle zalle del cielo e le stelle azzurre segnate sul suo viso null'altro che la sottile tenda di tela consumata e rappezzata attraverso cui si scorgono dei punti di fuoco quando ci si sveglia di notte espresse tutto questo con parole ingenue e potenti con parole così giuste che sentii che lei non mentiva ebbi pietà di lei e le chiesi perché non mi hai detto che desideravi andartene per un po' di tempo perché non me lo avresti permesso mi avresti promesso di ritornare e io avrei acconsentito non mi avresti creduto vedendo che non ero in collera rise e soggiunse vedi è finito sono andata dai miei ed eccomi qui mi bastava essere laggiù soltanto qualche giorno ora ne ho avuto abbastanza è finito è passato sono guarita sono tornata non mi fa più male sono assai contenta tu non sei il cattivo vieni a casa le dissi si alzò le presi la mano con la sua mano fine dalle esili dita trionfante nei suoi stracci sotto la suoneria dei suoi anelli dei suoi braccialetti delle sue collane e delle sue placche si diresse con gravità verso la mia dimora dove Mohamed ci aspettava prima di entrare ripetei alluma ogni volta che vuoi tornare fra i tuoi avvertimi e io te lo permetterò diffidente mi chiese me lo prometti si te lo prometto anch'io te lo prometto quando mi farà male e lei posò entrambe le mani sulla fronte con un gesto magnifico ti dirò bisogna che vada laggiù e tu mi lascerai andare l'accompagnai nella sua camera seguita da Mohamed che portava un secchio d'acqua visto che non era ancora stato possibile avvertire del ritorno la moglie di Abdelkader al Hadara l'uma entrò scorse l'armadio a specchi e radiosa in volto corse a mirarsi come chi si lanci verso una madre ritrovata stette a guardarsi qualche attimo fece una smorfia poi con voce un po' irritata disse allo specchio aspetta nell'armadio ci sono vesti di seta tra poco sarò bella e io la lasciai sola affinché ci vettasse con se stessa la nostra vita riprese come prima e io subivo sempre più la strana attrazione esclusivamente fisica di quella fanciulla per la quale provavo al tempo stesso una sorta di paterno di sdegno sei mesi trascorsero così poi mi accorsi che all'uma li diventava nervosa agitata un po' triste un giorno le dissi forse vuoi tornare dai tuoi sì voglio non osavi dirmelo non avevo coraggio va te lo permetto lei mi prese le mani e le baciò come faceva in tutti i suoi slanci di riconoscenza e l'indomani era scomparsa tornò come la prima volta dopo circa tre settimane ancora sbrindellata era di polvere e di sole sazia di vita nomade di sabbia e di libertà in due anni si recò così quattro volte dai suoi io la riaccoglievo allegramente senza gelosia poiché per me la gelosia non può nascere che dall'amore quale noi lo intendiamo certo se l'avessi colta in fragrante sarei stato capacissimo di ucciderla ma l'avrei uccisa un po' come si abbatte per pura violenza un cane disobbediente non avrei sentito i tormenti il fuoco distruttore quel male orrendo che è la gelosia del nord ho detto poco fa che sarei stato capace di ucciderla come si abbatte un cane disobbediente infatti l'amavo un po' come si ama un animale rarissimo cane o cavallo la cui sostituzione è impossibile era un animale ammirevole una bestia sensuale una bestia fatta per piacere in un corpo di donna non saprei farvi capire quali distanze incommensurabili separavano le nostre anime nonostante che i nostri cuori in certi momenti si sfiorassero si riscaldassero l'uno all'altro lei rappresentava una cosa della mia casa della mia vita un'abitudine piacevolissima alla quale tenevo e che in me era l'uomo carnale quello che ha soltanto occhi e sensi ad amare ora una mattina Mohammed entrò nella mia stanza con una strana espressione sul volto con quello sguardo irrequieto degli arabi che assomiglia allo sguardo sfuggente del gatto di fronte al cane vedendo quella sua faccia chiesi ebbene che c'è all'uma partita mi misi a ridere partita per dove partita completamente signore come partita completamente sì signore ma tu sei pazzo ragazzo mio no signore perché partita come su spiegati restò immobile senza voler parlare poi ad un tratto ebbe una di quelle esplosioni arabe di collera che ci fanno fermare nelle vie della città alla vista di due energumeni nei quali il silenzio e la gravità orientali danno improvvisamente luogo ai gesti più estremi e alle vociferazioni più feroci e attraverso quelle grida potei capire che all'uma se n'era fuggita col mio pastore dovetti calmare Mohamed e tirargli fuori ad uno ad uno dalla bocca ai dettagli non fu facile alla fine appresi che da otto giorni spiava la mia amante e si era accorto che lei aveva degli appuntamenti dietro ai vicini boschi di cactus o nel borro degli oleandri con una specie di vagabondo assunto quale pastore dal mio amministratore alla fine del mese precedente l'ultima notte Mohamed aveva visto all'uma uscire e non l'aveva più vista rientrare e ripete esasperato partita signore partita non so perché ma il suo convincimento il convincimento di quella fuga col vagabondo entrò in me e si fece subito assoluto irresistibile la cosa assurda di per sé diventava certa pensando alla irragionevolezza che è la sola logica femminile con una stretta al cuore e la collera nel sangue cercavo di ricamarmi i lineamenti di quell'uomo e ad un tratto ricordai di averlo visto la settimana prima ritto su una gobba del terreno in mezzo al suo grezze con lo sguardo fisso su di me era una sorta di beduino altissimo il colore dell'equimembra nude si confondeva con quello dei suoi cenzi un tipo di barbaro bestiale dagli zigomi sforgenti dal naso adunco dal mento sfuggente dalle gambe stecchite una gran carcassa sbrindellata con menzogneri occhi di sciacallo non dubitavo affatto no che all'uma fosse fuggita con quello straccione perché perché era all'uma una figlia della sabbia un'altra a parigi figlia del marzapiede sarebbe fuggita col mio cocchiere o con un vagabondo della periferia sta bene disse a Mohamed se è scappata peggio per lei ho da sbrigare la corrispondenza lasciami solo Mohamed se ne andò sorpreso dalla mia calma mi alzai aperti la finestra e vi rimasi respirando a pieni polmoni l'aria soffocante del sud soffiava lo scirocco che mi scendeva fino in fondo al petto poi pensai Dio mio è una una donna come molte altre chissà chissà cosa le fa agire che cosa le fa amare seguire o abbandonare un uomo talora si sa spesso non si sa a volte si dubita perché sarà dileguata con quel brutto ripugnante perché forse perché da un mese il vento che soffiava aspirava sempre da sud e questo è bastante un soffio nella maggioranza dei casi sa forse all'uma sanno le donne anche le più scaltre le più complicate perché agiscono in un determinato modo non più di quanto lo sappia una banderuola che si muove col vento una brezza insensibile fa girare sul perno la freccia di ferro di ottone di ramiera o di legno così come un influsso impercettibile un'impressione inafferrabile smuove e spinge alle risoluzioni il cuore mutevole delle donne siano esse di città dei campi dei sobborghi o del deserto più tardi se sono ragionevoli e comprensive possono sentire perché hanno agito in un modo piuttosto che in un altro ma al momento lo ignorano poiché sono la preda della sensualità più imprevedibile le schiave stordite dagli avvenimenti dall'ambiente dalle emozioni dagli incontri e da tutte le carezze che fanno trassalire la loro anima e la loro carne o ben si era alzato in piedi fece qualche passo mi guardò e disse sorridendo ed ecco un amore del deserto chiesi e se tornasse murmurò quella sporca ragazza credo che malgrado tutto mi farebbe piacere e la perdonereste e addio sì con le donne bisogna sempre perdonare o ignorare e la Kampf houses Grazie a tutti